Io speravo che il secolo defunto fosse il secolo del sesso, invece era il secolo della cucina anche quello, bastava aprire la televisione e vedevi spadellare. Polpettone, signor Polpettone, venite avanti, non vi veritate, voglio presentare anche voi ai miei lettori. Lo so che siete modesto ed umile, perché veduta la vostra origine vi sapete da meno di molti altri, ma fatevi coraggio e non dubitate che con qualche parola detta in vostro favore troverete qualcuno che vorrà assaggiarvi. Speriamo che il libro vada in molte mani, perché era un libro che si leggeva più nel secolo scorso. È stato importante l'Artusi non solo per le ricette della cucina, ma anche perché dava in una bella lingua italiana dei consigli che fino allora le avevamo ascoltate solo in francese. Briat Savarin era conosciuto solo dai ricchi, dai nobili. E invece l'Artusi poi penetrò in tutte le case. Io ero figlio di un carabiniere e di una maestra elementare, ma in cucina nella cassetta del tavolo c'era l'Artusi con una copertina con quei quadri di Chardin. Sai che c'è una lepre, ciondoloni morta, una pentola di rame luccicante. E così avevo imparato a leggere da me, da bambino, avevo scoperto che con i risotti si può fare le frittelle di San Giuseppe. E allora appena vedevo il riso, volevo le frittelle dolci. Della salute questo è il breviario, l'apoteosi è qui della papilla. L'uomo, merce sua, può viver centenario, centellando la vita stilla stilla. Il solo gaudio umano, gli altri sono ruochi, Dio lo commise alla virtù dei cuochi, onde se stesso ogni infelice accusi che non ha in casa il libro dell'Artusi. E dieci volte un asino si chiami se a mente non ne sa tutti i dettami. Un ammiratore! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti